Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno Luca! Buongiorno Marina! Marina, cosa mi vuoi domandare oggi? Oggi voglio imparare i mesi, i mesi dell'anno. Benissimo, cominciamo! Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, novembre, dicembre, dicembre. Luca, quando hai il compleanno? Il mio compleanno è a luglio. E il tuo compleanno? Il mio compleanno è in settembre. A settembre. Il mio compleanno è a settembre. A luglio a settembre. E quando è Natale? Natale è a dicembre. E quando è il compleanno dei nostri... Dei nostri amici su YouTube? Sì, scrivi. Perfetto, scrivete il vostro compleanno. Scrivete il mio compleanno è a più il mese. A marzo, a luglio, a settembre come forse. Perfetto. Siamo curiosi. Sì, siamo curiosi. Ci vediamo presto, sempre sul canale dolce vita. Sì, e... E non dimenticate... Ciao! Ciao! Arrivederci!